Ciao a tutti ragazzi di Spazio Games, sono Dr. Mirx, oggi siamo qui con un nuovo video Questa volta torniamo ad analizzare un mitraglione, quindi un nuovo mitragliatore pesante, mitragliatrice leggera Sto parlando dell'M27IR, o IAR, non so precisamente la pronuncia Ma comunque abbiamo qui la nostra classe, quindi un M27 con calcio e silenziatore Con, abbiamo in questo caso l'estrazione rapida, gioco di prestigio, silenzo di tomba, sciaccavo di concentrazione Poi ovviamente serie di ricompense, il nostro pacchetto serie perfettamente intercambiabile Come anche intercambiabile saranno gli accessori, ne parleremo adesso nel corso del video Parliamo innanzitutto dell'arma, che cosa dire di buono di quest'arma? Prima di tutto io partirei semplicemente dai colpi, perché come ogni buon mitragliatrice leggera che si rispetti L'arma possiede un caricatore molto capiente, da ben 100 colpi Quindi tutto questo vi permette di non utilizzare dei caricatori eventualmente modificati Quindi sicuramente l'arma con 100 colpi, diciamo che fa già il suo sporco mestiere Di uccidere parecchi nemici anche con un solo caricatore Quindi il danno è molto buono Senza alcun tipo di accessorio, la canna dell'arma abbiamo 3 colpi per il corpo e 2 colpi alla testa Con il freno di bocca abbiamo 2 colpi al corpo e 1 colpo alla testa Quindi l'arma aumenta notevolmente di danno Mentre se utilizzeremo nel silenziatore, una modalità che a me piace fare molto Quindi il fatto di mettere il silenziatore mi piace molto come cosa, la uso spesso così Avremo in questo caso 4 colpi al corpo e sempre 2 colpi alla testa Quindi diciamo che tutto questo dipende in base un pochino anche alla distanza Ma comunque l'arma è molto molto buona nel suo complesso Ovviamente però ha tutti questi aspetti che direte, cavolo, ha tanti aspetti positivi Però ci sono anche dei aspetti negativi Perché? Perché ovviamente una mitragliettrice leggera non è fatta per correre in giro come una mitraglietta Come eventualmente anche qualche fucile d'assalto Vedi l'honey badger, vedi per esempio il remington Vedi, non so, qualche altro fucile d'assalto presente nel gioco Ma secondo me è fatta per stare un po' Non dico fermi ma comunque a controllo di una certa zona O comunque di un certo territorio della mappa Infatti noterete che l'arma, ma la mano che si cammina Risulta essere molto lenta nel movimento E ovviamente non vi offre quella rapidità di mira Quella rapidità di movimento che avreste, come ho detto prima Con un fucile d'assalto o con una mitraglietta Quindi secondo me è un po' un'arma da camperare Ma camperare nel senso non stare fermi in un punto Che quello ovviamente fa investire qualsiasi giocatore di COD Ma camperare in modo un po' più attivo Quindi controllare un po' più di zone della mappa Ovviamente gli accessori sono molto importanti Secondo me si potrebbe anche abbinare un mirino termico È comunque già buono un mirino metallico Ha una buona precisione come arma Il rincuo è veramente nullo Quindi ovviamente il rincuo è molto molto basso Se si usa soprattutto il calcio Ma in generale non ne ha molto E soprattutto andremo ad attenuare Se metteremo ad esempio concentrazione Quindi passiamo in questo caso ai perk Mi permetterà di evitare che i nemici Vi colpiscono nel mentre mandino la vostra mira Praticamente a farfalle Quindi manterrete fisso la mira sul nemico Questo che ormai sappiamo 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 Per continuare a ridirlo Come anche vi consiglio Gioco di prestigio Che secondo me è fondamentale per un'arma del genere Perché? Perché l'arma ha sì tanti caricatori Quindi caricatori con molti colpi Ma ha anche il fatto di Nonostante comunque c'è questo aspetto buono Ci vuole anche quando bisogna di caricare ovviamente tanto tanto tempo Quindi dovrete sicuramente svelitire la manovra di ricarica dell'arma Con gioco di prestigio Quindi passeremo da i 3 secondi che avremo senza gioco di prestigio A il secondo e mezzo, 2 secondi con gioco di prestigio Quindi decisamente un miglioramento netto netto Quindi questa è la mia analisi arma per M27 YAR Secondo me è ancora meglio dell'LSAT Quindi l'ultima volta che avete visto un video su una mitallettrice leggera L'ho fatto su LLSAT E decisamente come M27 YAR Mi trovo molto molto meglio nelle partite multiplayer Non so come vi troviate voi Fatemelo sapere con un commento Come anche col commento Sempre, ovviamente, come ben sapete Come via e via è ben noto La prossima arma da dover analizzare Passate anche dal mio canale personale Che trovate in descrizione Vi ringrazio per aver visto questo video Qui da Tormier E ci vediamo con la prossima analisi arma Qui su Spazio Games Questo è tutto E al prossimo video Ciao